la pianta no no salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente è arrivato il giorno del test di loro gli aeroplani di carta della power up qualche mese fa ho portato sul canale l'unboxing poi è arrivato il video del montaggio di come andavano costruiti e finalmente oggi è arrivato il video di prova dove finalmente siamo in grado di testare questi aeroplani di carta i modelli che testeremo sono il power up e 2.0 aeroplano di carta motorizzato che ovviamente non va controllato da nessuna applicazione da nessun smartphone che è utilizzabile da bambini da otto anni in su sia nel montaggio che appunto nell'utilizzo ha solo bisogno di questo strumento per andare a ricaricare l'accumulatore che è quello che poi va alimentare il motore fai vedere come si alimenta il motore si usi la montagnetta più alta part la montagnetta sarebbe la sporgenza del caricatore cioè quello che ci sono dentro le tre batterie alta lo fa partire e quella più bassa lo fa spegnere sì perché diciamo c'è due sporgenze quella più alta fa l'alimentazione questo va a interrompere e a diciamo fermare l'alimentazione all'elica va a scaricare l'accumulatore in poche parole tieni sarà mentre poi quello che useremo dopo sarà lui il power up 4.0 quello più avanzato quello più tecnologico utilizzabile dai 14 anni in su comunque tutte le caratteristiche le trovate nei video che vi lascio qua sopra nelle schede lui perché per utilizzarlo ha bisogno di uno smartphone perché ha un'applicazione dedicata perché al bluetooth e ha un accelerometro quindi è possibile pilotare l'aereo di carta con lo smartphone con il movimento dello smartphone con i joystick virtuali che si vanno a creare nello smartphone c'è una doppia possibilità di utilizzo qua abbiamo due motori anziché uno quindi sono due prodotti molto simili perché entrambi fatti di carta però uno molto più tecnologico che questo mentre l'altro è un classico aereo di carta con un boste per quanto riguarda appunto la propulsione del volo per quel piccolo aereo di carta qua c'è anche il qr code per accedere al link e ci sono tanti aeroplanini che si possono fare tipo c'era anche con le foglie di insalata è vero sì perché comunque nel nel sito della power up è possibile vedere tutte le creazioni che gli utenti hanno fatto usando comunque oltre alla carta che sia nella confezione che quella che abbiamo anche normalmente a casa è possibile creare utilizzando quello che la parte motorizzata elettronica di questi aeroplani con altre strutture e ce n'era appunto uno fatto addirittura con delle foglie quindi detto tutto questo iniziamo questo volo con questi power up c'è ogni tanto un po di arietta non è vento un po d'aria e sicuramente per loro però è come se fosse un uragano perché sono talmente leggeri abbiamo l'unica parte pericolosa che questa pianta qua dietro dove potremmo rischiare di far volare il power up sulla pianta speriamo di no speriamo che non succeda questo vero sarà però potrebbe succedere anche se non lo speriamo perché comunque dopo tirarlo giù da una pianta di quel tipo è veramente molto molto impegnativo è un bastone lungo 5 metri minimo quindi detto tutto questo adesso iniziamo questi test con i due power up 4.0 e 2.0 allora iniziamo prima di tutto con il power up 2.0 la versione quella più semplice quella per bambini da otto anni in su qua abbiamo il suo carica batteria o meglio il suo carica accumulatore che poi va a alimentare il motore e quindi l'elica ovviamente lui non va né pilotato né niente ha solo questo boss che gli permette di volare per 20 secondi o meglio l'autonomia che viene data all'elica è di circa 20 secondi poi ovviamente potrebbe scendere anche prima per andare a ricaricare il power up 2.0 è semplice basta inserire qua nell'apposito foro il caricatore aspettare un 10 15 secondi che andiamo a ricaricare vedete che l'elica già iniziato a girare a manetta quindi andiamo ad accumulare più energia possibile e adesso pronti partenza via vai a riprenderlo sarà adesso lo devi tirare un po più in alto prendilo un po più da qua davanti anziché da in mezzo lo prendita davanti lo tiri un po più verso l'alto ok pronta pronti potenza via brava bravissima ha fatto anche la capriola ha già fatto l'avvitamento guarda tua mamma che lancio che ha fatto ricarichiamo guarda 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 quanto va guarda quanto va guardalo adesso non si ferma più allora sarà com'è il tuo power up 2.0 è divertente e vola abbastanza quando lo tiro io di più però quando lo tiri tu sei un po col porto col polso molle adesso proviamo il mio adesso invece proviamo il power up 4.0 quello che ovviamente bisogna avere da 14 anni in su per poterlo utilizzare e perché per utilizzare bisogna avere uno smartphone perché comunque lui si connette bluetooth allo smartphone tutte cose che abbiamo spiegato nel video che trovate qua sopra nelle schede dove abbiamo fatto il montaggio e l'installazione di tutto quello che è l'applicazione e via dicendo quindi adesso sarà porta il power up 4.0 ecco questo è il power up 4.0 facciamo cambio mi dai power up 4.0 prendi il 2.0 questo è il power up 4.0 doppie eliche rispetto alla versione 2.0 e qua abbiamo il modulo con la batteria che si ricarica micro usb antenna perché comunque si connette bluetooth allo smartphone e ovviamente lui ha un accelerometro che appunto con il movimento dello smartphone riesciamo a far comandare i movimenti di questo aereo di carta calcolate sempre che è un aereo di carta quindi quando c'è un po di arietta come in questo momento farlo virare farlo girare non è sempre semplicissimo appunto per un discorso che l'aria lo fa muovere un po dove vuole perché lui è davvero molto molto leggero quindi detto tutto questo facciamo questa prova con il power up 4.0 allora per utilizzarlo è semplice basta andare a tirare il piccolo interrottorino che abbiamo qua che on off e vedete che lui si è già acceso andiamo ad aprire l'applicazione che si chiama power up 4.0 abbiamo varie modalità di utilizzo abbiamo anche il rumore nell'applicazione di un aereo che sta decollando andiamo nella schermata principale questa la schermata dove possiamo già decollare l'applicazione non sto a descriverla più di tanto ne abbiamo già parlato appunto nel video in cui l'abbiamo costruito e assemblato quindi sotto abbiamo i parametri comunque quelli preconfigurati di volo andiamo a fare fly e qua abbiamo due possibilità di volo possiamo pilotare l'aeroplano con questo tasto centrale che è quello che va ad avviare i motori vedete che vado ad aumentare diminuire la potenza dei motori ma poi quello che è il volo dell'aeroplano quindi farlo girare farlo virare è tutto dato dall'accelerometro dello smartphone quindi andando a muovere il telefono andremo a fare virare il piccolo aeroplano di carta poi c'è la possibilità di pilotarlo anche in acro quindi senza che lui utilizzi nessun diciamo dispositivo di aiuto al volo però con un aereo di carta non è proprio il massimo della semplicità e poi abbiamo la possibilità anche di pilotarlo con joystick modo quindi avremo due sorte di stick per dare gas e farlo girare e via dicendo però io ho provato entrambe le possibilità e preferisco quella in cui si utilizza lo smartphone quindi detto tutto questo direi che è arrivato il momento di provarlo quindi in alto a destra poi vedete che abbiamo la quantità di batteria e a sinistra mentre abbiamo i db cioè la potenza del segnale bluetooth con l'aeroplano quindi detto tutto questo iniziamo il testo con il power up 4.0 guardate come è bello da vederlo volare perché comunque è un aeroplano di carta quindi fa impressione quello io devo pilotarlo con lo smartphone non è semplicissimo soprattutto perché a un certo punto si perde un po il senso di destra sinistra e si rischia comunque di farlo volare magari su una pianta però avete visto con che divertimento si può utilizzare adesso erica è andata a recuperarlo per fortuna ho l'assistente che recupera l'aereo di carta grazie assistente e ci dà un punteggio perché la durata del volo è quello che poi ci va a dare il punteggio del nostro diciamo palmaresse quindi andiamo a fare ancora fly quindi diamo gas pronto pronti partenza no la pianta la c'è la pianta quindi cerchiamo di allontanarci dalla pianta perché è pericoloso sulla pianta se si aggancia nei rami non lo tiriamo più giù ed eccolo qua facciamolo venire un po verso di me scendiamo un pochino di quota cerchiamo di battere il record precedente che era di 26 secondi adesso scendo è bellissimo comunque l'unico pericolo sono le piante perché se ci va sopra lo perdiamo nel senso che sarà difficile da recuperare la pianta no ok abbiamo schivato la pianta no torna di qui torna di qui il vento lo sta spostando di là anche la velina lo faccio atterrare perché anche la velina sta perdendo il drone con la telecamera la seconda velina va a recuperare l'aeroplano di carta comunque ho fatto il record 48 secondi e poi e poi l'ho fatto scendere perché se non dava verso quella pianta la ok come è stato stava cadendo fatico ok abbiamo fatto il record adesso facciamo un ultimo volo abbiamo ancora 88 per cento di batteria perché comunque lui viene dato addirittura per un dieci minuti di volo poi comunque si può ricaricare con un power bank perché la batteria davvero piccola si ricarica in pochissimo tempo quindi adesso dai 48 secondi precedenti cercheremo di fare un minuto quindi pronti partenza e via la velina sta cercando di inquadrare la velina dove è andato vieni giù vieni giù no no la pianta no no la pianta no la pianta no ma che l'ho fatto cadere devi arrampicarti l'ho fatto cadere di un po di rami adesso è più basso si riesce a prendere ci vuole un ramo lungo per andare a stare quello lì e poi venite serve un ramo se riesco a rompere questo ce la facciamo tanto è tutto morto eccolo andiamo dai 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 ma dove è attaccato no sennò vai anche a romperlo con il ramo dai ma dove è attaccato ce l'abbiamo fatta che è sudata ce l'abbiamo fatta abbiamo recuperato il power up 4.0 avevo capito dall'inizio che quella pianta lì era pericolosa perché comunque il vento o meglio l'aria che c'è perché non c'è il vento tendeva a portarlo sempre un po di qua e avevo capito che sarebbe finita più o meno così la cosa brutta che era finita nel ramo più alto no era in quello più alto poi dopo per fortuna accendendo i motori è caduto perché si è mosso e si è appoggiato a quello lì a quell'altezza lì che era un po più accessibile per riuscire a recuperarlo quindi è rimasta davvero poca batteria perché abbiamo il 39 per cento perché praticamente cercando di avviare i motori per farlo scendere ho consumato tutta la batteria però ne abbiamo ancora un pochino quindi direi che possiamo tentare l'ultimo volo sperando di stare lontani da questa pianta adesso vado di lì anche se probabilmente siamo controvento ma se vola perlomeno andrà un pochino più distante dalla pianta speriamo i motori li abbiamo accesi pronti partenza via no la pianta ancora io direi che forse meglio basta perché l'aria lo porta totalmente da questa parte non c'è verso di farlo andare dalla parte di là quindi l'unico tentativo potrebbe essere verso di là poi se vediamo che è ancora pericoloso ci arrendiamo il volo tanto l'abbiamo fatto quindi pronti partenza via no 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 guardalo guarda come oh eccola ma sembra che c'è una calamita questa pianta è qualsiasi cosa faccio va lì sì ma devi dare il gas con questo col pollice devi dare il gas vedi e intanto che dai gas devi muovere il telefono per farlo andare a destra a sinistra quando tu vedi che va in qualche posto strano togli il dito che si spegne il gas quando vedi che tu muolla il gas vai dai gas scendi scendi che va sulla pianta brava dai gas brava che brava pati bravissima ma se scarico pati perfetto ragazzi avete visto quanto sono divertenti questi aeroplani di carta ovviamente lui una cosa molto più divertente perché comunque si può farlo stare in volo un sacco di tempo se lo si riesce a pilotare bene se non c'è aria è stata anche se anche se è stata veramente drastica la scena in cui è volato su quella pianta quella che avevo detto all'inizio che era una cosa pericolosa infatti alla fine si è rivelata molto pericolosa siamo riusciti a farlo cadere nel ramo più basso avviando i motori dopo con un ramo siamo riusciti a farlo cadere e siamo riusciti a recuperarlo dopo abbiamo fatto ancora qualche volo ma il pericolo della pianta era troppo vicino perché il vento tirava sempre da quella parte sembrava che ci fosse una calamita con la pianta quindi ragazzi se questo mio video in cui ho portato questi aeroplani di carta di cui vi lascio sotto il link in descrizione nel caso vogliate dargli un'occhiata perché sono disponibili su amazon quindi se volete dare un'occhiata sono sicuramente un oggetto divertente da regalare e per divertirsi all'aperto quindi se questo mio video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anche di loro tantissimi spoiler spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei droni sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso anticipo un sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o novità ciao e al prossimo video ciao ciao